Custodia cautelare presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Cardarelli di Campobasso è la misura emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo ed applicata ad un soggetto del posto con problemi psichici accentuati dall'abuso di alcol e gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia a danno della moglie convivente. L'uomo, ossessionato da presunti tradimenti, era arrivato ad accusare la consorte di avere rapporti non solo con estranei ma addirittura anche con uno dei figli maschi, accuse denigratorie e ingiuriose che nel tempo sono sfociate in aggressioni fisiche e violenze sessuali con controlli continui della biancheria della vittima. Un comportamento sempre più ossessivo e pericoloso come attestato anche dalle diverse richieste di intervento pervenute alle forze dell'ordine da parte della malcapitata e dei figli. Intanto il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.